Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, ben ritrovati anche questo sabato mattina insieme alla nostra edicola Buongiorno Rossini, sono le 7.20, torniamo come sempre tutte le mattine dal lunedì al sabato puntualissimi per leggere con voi le notizie dai due principali quotidiani regionali, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Oggi è sabato 11 novembre, festeggiamo un santo di serie A, lasciatemi usare questa metafora, San Martino di Tour, facciamo memoria di un grande vescovo nel giorno della sua deposizione nato da genitori pagani in Pannonia, chiamato al servizio militare in Francia, la conosciamo tutti, la sua storia coprì con il suo mantello Cristo stesso, celato nelle sembianze di un povero. E la tradizione negli anni scorsi faceva sì che San Martino fosse il protagonista dell'estate, della famosa estate di San Martino, perché il tempo intorno all'11 novembre, intorno a queste settimane si rasserenava dopo essere entrato in un lungo periodo autunnale. E approfitto e chiedo al nostro carissimo regista Andrea Sabatini di mostrarci il meteo di questa mattina per verificare se San Martino ci ha portato un soffio di estate ritrovata. Dalle temperature che vediamo in questo momento sono 7 gradi, raggiungeremo un picco di 14 gradi, quindi diciamo che San Martino sta facendo di tutto per portarci un pizzico di calore, però come vedete le temperature sono tipicamente autunnali, anzi forse anche un pochino al di sopra della media. Detto questo andiamo a dare un'occhiata alle due home page, alle due copertine dei quotidiani che andremo a sfogliare. Partiamo dal resto del Carlino di Pesaro. La notizia principale è quella di due persone che nelle giornate di giovedì sera sono stati strappati alla morte dai carabinieri, un lieto fino per due tentativi di suicidio, prima un giovane dal parapetto del ponte su Portarimini e poi invece una donna in ospedale ricoverata nel reparto di ginecologia. Gran finale questo weekend ad Acqualagna per la fiera del Tartuffo Bianco, è intervenuto anche il presidente della Repubblica Mattarella con una lettera agli organizzatori dopo che nelle scorse settimane avevamo avuto la presenza del premier Giorgia Meloni. Carriera diffamò il capo della mobile e le motivazioni della sentenza ai tempi del covid, scatta il conto alla rovescia a Fano per la pala del Perugino e poi il triangolo dei furti, Gabicce, Gradara, Colombarone, 20 colpi in casa in due settimane. Tiviroli di Marche Multiservizi taglia il nastro nella discarica di Casprete e poi evoca il caso Riceci, ritorna Cangiotti rieletto presidente alla fondazione della Cassa di Risparmio, poi una bella iniziativa oggi in Piazza del Popolo, esame gratis per il diabete, la classifica della fondazione Merloni delle imprese provinciali e regionali in ordine di fatturato che andremo a vedere poi all'interno, ma la foto copertina se la guadagna l'intervista all'assessore Murgia, a Sili Nido non c'è speranza, servono due milioni per accontentare le famiglie escluse. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino Pesaro, andiamo adesso a vedere il corriere adriatico, cavalcavia al giro di Boa, rimossi tutti i vecchi guardrail, superato un terzo dei lavori programmati con le chiusure notturne, segnalazioni per l'assenza di illuminazioni ma disagi inevitabili, ponte e sottopasso, cantieri appagliati. Foto copertina dedicata al report della fondazione Merloni, questa assemblea che si è tenuta ieri presso la sede della Confindustria a Pesaro e l'appello della presidente Baronciani piccole e medie imprese unirsi per sopravvivere. Nei tre box sotto la copertina, due dedicati a Fano, nuova legge sui PRG, Acquaroli assicura norme equilibrate e poi si azzuffano in strada per un parcheggio divisi da un ufficiale. Riprende la notizia del tentato i suicidi di giovedì, anche il corriere adriatico vogliono farla finita, salvati dai carabinieri, due richieste di intervento nell'arco di una notte e poi torna Monsignor Bagnasco, il Cardinal Bagnasco per una festa tutta pesarese. Andiamo all'interno del corriere adriatico, ci tuffiamo nelle notizie della nostra città e cominciamo appunto con la questione del cavalca ferrovia che viene presa in esame dal giornalista Thomas Delbianco. I vecchi guardrail sono stati rimossi, come si vede, si nota dalla fotografia scattata. Dal ponte c'è una voragine, ovviamente transennata per le auto che scorrono nelle corsie superiori, una voragine che si affaccia proprio sulla ferrovia. vediamo nel grafico anche il cronoprogramma dei lavori che interessano diciamo gran parte dei pesaresi che attraversano quotidianamente il cavalca ferrovia. Il ponte continuerà a essere chiuso dalle 23 alle 5 del mattino nei seguenti giorni, quindi prendete appunti se vi interessa, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 di novembre. A questo punto il ponte riaprirà anche di notte dopo il 25 novembre, anche se mancherà l'illuminazione e il completamento della messa in sicurezza. Poi tra febbraio e marzo del 2024 si ripristinerà completamente la circolazione a quattro corsie. L'inizio del primo stralcio dell'opera aveva subito ritardi, ormai lo sappiamo a memoria, per la presenza della sottostante ferrovie, per questioni burocratiche con i pareri di RFI, ma anche diciamo la verità per qualche problema con la ditta appaltatrice. Poi l'intervento per la sistemazione e il ripristino dei guardrail sul versante che porta in via Solferino. Un'altra lunga pausa perché il comune doveva aspettare gli esiti, poi i risultati favorivi del bando ministeriale, dedicato ai ponti ai quali aveva partecipato. Poi finalmente adesso lo sblocco e dovremmo essere arrivati alla conclusione. È un'opera da 3 milioni di euro interamente finanziata dai fondi ministeriali. Per l'appunto proseguono anche i lavori sul sottopasso dei cappuccini. Per circa 700 mila euro verrà demolita una parte delle attuali rampe con la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minore. Questo per facilitare sia l'accesso delle persone con disabilità motoria sia dei ciclisti. Un caffè con il presidente questa mattina per chi volesse. L'appuntamento voluto dal presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini che si incontra con i cittadini del quartiere 7 Montegranaro Munaglia alle ore 11 alla pasticceria Corrado in piazza Redi numero 42. Torniamo alle opere pubbliche. Le ruspe scavano per la fondamenta della cittadella. Anche qui il Corriere Adriatico ci presenta una foto del cantiere di Villa San Martino. Cittadella del basket iniziati gli scavi per il nuovo impianto. L'intervento appaltato alla ditta Pretelli di Urbino finanziato dal PNRR 4,4 milioni porterà alla nascita della cittadella del basket con la realizzazione di una struttura coperta polifunzionare da adibirsi a campo di allenamento o per agonismo basket e attività motorie correlate, corredata di tribune, spogliatoi, uffici, sale riunioni e convegni. Ci sarà anche una palestra di mille metri quadri con due piani nella parte superiore di 170 metri quadrati ciascuno e sarà, lo sappiamo, il centro federale del basket. Quindi la FIP lo potrà utilizzare per partite di allenamento della nazionale qualora decidessero di venire a Pesaro e si potrà allenare anche la VL. C'è stata la polemica nei mesi scorsi con gli ambientalisti e i residenti che non volevano l'abbattimento degli alberi. Ora però, come vedete, le ruspe sono passate agli scavi e in questi giorni è visibile dentro il cartiere, come vedete dalla foto, un ampio scavo dove si inizieranno a realizzare le fondamenta per la nuova palestra. Poi l'articolo si sofferma sulle dichiarazioni e le polemiche che abbiamo anche ospitato qui durante insieme a Canestro con Franco Arceci e Luciano Amadori. Quindi invito i lettori a rinfrescarsi la memoria. Le nuove antenne fuori dal San Bartolo. Un altro problema che viene sottolineato dai residenti e degli amanti del nostro parco. È stato prorogato ancora il termine ultimo per presentare all'Ufficio Ambiente del Comune le osservazioni al nuovo regolamento comunale per lo sviluppo della telefonia 5G. La nuova scadenza è stata prorogata il 12 dicembre. Intanto da Cattabrighe parte una lettera con 734 firmatari indirizzata a Matteo Ricci, alla sovraintendenza del Lente Parco e della comunità, dove si chiede di prestare la massima attenzione sul posizionamento di nuove antenne. Vediamo nella foto quella posizionata nel centro di Fiorenzuola di Focara. È scritto nella lettera che il comprensorio del San Bartolo ha già un livello di copertura del segnale sufficiente per utilizzare telefonia mobile o navigare in rete. Quindi ci si chiede perché continuare ad avallare le richieste dei gestori per nuove antenne all'interno della nostra preziosa risorsa del Parco. Riteniamo che gli enti competenti devono prendere le dovute precauzioni, fare di tutto per evitare o limitare gli effetti negativi di questi interventi. Ricordiamo che le previsioni di nuove antenne nel comprensorio del Parco e del Preparco riguardano il borgo di Fiorenzuola, Cattabrighe e Colombarone. E a proposito di installazioni e di lavori, un impuntamento molto interessante. Questa mattina alle 11 nella sala del Consiglio Comunale si presenta il libro Superbonus 110% tutta la verità scritto da Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle. Restiamo in ambito politico pronti ad allargare la coalizione alle forze civiche. Nasce il tavolo politico del centrodestra, alleati e programmi da definire. E' rappresentato al momento dai partiti della coalizione nazionale, quindi ne fanno parte Silvana Ghiretti, segretaria della Lega, che vediamo nella foto a sinistra, Serena Bonesta di Fratelli d'Italia, che invece vediamo a destra, e Gianmarco Cecconi, coordinatore di Forza Italia, Fabio Giovannelli, segretario dell'Udc e Giorgio Razzi di Civici Marche. Il centrodestra è compatto, lavora per costruire un'alleanza alternativa a Ricci, capace di essere interpreti di una forte discontinuità e dare risposte alle istanze inascoltate della città. Intanto questa mattina alle 9.30 nella sala Tritone del Baia Famiglia Resort parla l'europarlamentare il dottor Pietro Bartolo, storico medico di Lampedusa, su diritti migranti e accoglienza. Cos'è cambiato? Dal 3 ottobre 2013, un convegno organizzato dal gruppo Refugees Welcome. Fondazione Merloni, ieri presente alla sede di Confindustria di Palazzo Ciacchi, qui a Pesaro, le PMI, le piccole e medie imprese devono accorparsi. Chi è piccolo rischia di scomparire questo? L'allarme lanciato ieri dalla Confindustria Pesaro a introdurre i lavori il presidente Francesco Merloni, 98 anni, pensate, Pesaro è una città all'avanguardia nella regione per sviluppo economico e culturale e ha sempre fornito risultati importanti per le imprese marchigiane. E poi l'intervento della presidente Alessandra Baronciani, che fa anche una presigione proiettandosi nel 2024. Registriamo un calo dovuto all'inflazione, ai tassi bancari elevati, al calo del potere acquisto e alle due guerre in atto. Oggi le piccole dimensioni delle aziende non permettono di investire in ricerca e sviluppo, per questo occorre cercare di unirsi e collaborare con le università, questo è il Baronciani pensiero. Torna il cardinale Bagnasco, celebra 25 anni da vescovo, dell'anniversario del suo episcopato pesarese, si celebrerà una messa in cattedrale il 26 novembre. Vediamo Milena Bonaparte cosa scrive riguardo al ritorno del celebre prelato. Bagnasco venne ordinato a Pesaro, ce lo ricordiamo tutti, nel 1998. Quindi sono passati 25 anni, il cardinale ha oggi 80 anni e viene di nuovo accolto nella sua città di adozione, nella quale aveva prestato il ministero episcopale per ben 5 anni. Arriverà sabato 25 ottobre e terrà al Cinema Loreto una lezione sul patto educativo globale lanciato da Papa Francesco alle 15.45. Dedicato al tema Conosci il trascendente per educare al grande mistero della vita. Introdurranno alla riflessione l'arciveco Salvucci, il presidente del CEIS Don Franco Tamburini e Paolo Drago, vicepresidente della fondazione Don Gaudiano. Sono invitati addetti ai lavori, genitori, insegnanti, educatori, animatori, allenatori sportivi per prendere consapevolezza del loro difficile ruolo di responsabilità e dei pericoli che insorgono nel nostro quotidiano. Domenica 26 invece, come ricordavamo precedentemente, celebrazione della ricorrenza con la Santa Messa in cattedrale alle 11.30, ufficiata dal suo successore, ovviamente dopo il lungo episcopato di Piero Coccia, Monsignor Salvucci. E vediamo la notizia che è stata ripresa in copertina, soprattutto nella principale titolazione dell'arresto del Carlino, ovvero questo tentativo doppio di suicidio giovedì sera, salvati entrambi dai carabinieri. Allora vediamo nel dettaglio cosa è successo. Il primo è un giovane di 25 anni, pensate, è stato visto da alcuni passanti sul parapetto del ponte di Portarimini con la gambe a penzoloni sul fiume. Sono fortunatamente intervenuti immediatamente i carabinieri, hanno chiuso la strada al traffico e hanno convinto il ragazzo a rientrare sui suoi passi. Non è stato un caso isolato, poi ieri mattina ora le sei e mezza, un altro tentativo, questa volta una 64enne nel reparto di ginecologia di Pesaro, si è arrampicata su una balaustra di metallo dove passano i cavi della tensione elettrica, minacciando di buttarsi di sotto. Evidente i problemi psichici, stava delirando, sosteneva che nel reparto di ginecologia i medici uccidessero donne e bambini. Sempre in ambito della sanità, botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra, la consigliera di prima c'è Pesaro, Giulia Marchionni, accusa Biancani, posti letto, la regione ha già fatto chiarezza, dall'altra parte, come vedete, Luca Pagnoni di Dario, invece consigliere PD di Pesaro. Non è il PD, bensì il centrodestra, che deve richiedere scusa alla città sul futuro dell'ospedale. Un botta e risposta, chiaramente, indicando e mostrando nell'amministrazione regionale le responsabilità per il cantiere avanzato sul sito di Muraglia. Veniamo alla cronaca di Urbino, sempre restando nell'ambito del Corriere Adriatico. Abbiamo il titolo dedicato alla Presidente dell'ERDIS, ovvero l'ente regionale diritto allo studio, Maura Magrini, che nonostante tutto il rumore politico in merito all'avvio del procedimento di decadenza dal suo ruolo per incompatibilità formale, non ha ricevuto alcun aggiornamento della sua posizione dalla regione Marche, pertanto resta al timone dell'ERDIS. Invece Urbino Servizi, la Presidente si dimette dalla lista civica, Giulia Volponi lascia Urbino, città ideale. Vediamo appunto la Presidente immortalata nella fotografia. E oggi alle 10, per chi volesse partecipare, collettivo di studenti e lavoratori di sinistra che organizzano un sit-in per la Palestina in piazzale Roma. Cronaca di Fano, conciliamo economia e paesaggio, Acquaroli rassicura sull'urbanistica. C'è stato ieri un convegno ed è stata presentata la proposta di legge regionale. Dopo 30 anni la regione ha deciso di mettere mano alla legge sull'urbanistica e era presente oltre al governatore Francesco Acquaroli l'assessore competente Stefano Aguzzi. Diciamo anche un'investitura forse sotto traccia che lancerebbe Aguzzi come possibile candidato sindaco del centro-destra, ma lo stesso ha glissato. Per tali argomenti bisogna interpellare i partiti. Veniamo invece di cosa si tratta. La proposta di legge è una risposta alle necessità di adeguare le nuove esigenze, un quadro di riferimento ormai vecchio e superato. Sono 36 gli articoli che mirano a definire una disciplina unitaria di corretta gestione del territorio per orientare e coordinare gli enti locali e i loro piani, favorendo una minore consumo di suolo, la rigenerazione urbana e territoriale. Congresso di azione, Guidi sarà il segretario questo pomeriggio alle 17 al Tag Hotel di Fano, secondo congresso provinciale di azione e Massimo Guidi è il candidato unitario alla segreteria provinciale. Scegliere la scuola superiore in campo con Fano Orienta. L'assessore Mascarin presenta le iniziative per i ragazzi di terza media e, è incredibile, fanno a botte in strada per un parcheggio. Questo è quanto avvenuto ieri, intorno alle 17.15, nella zona di San Lazzaro. Due uomini si sono picchiati. È stato provvidenziale l'intervento del vicecomandante della Polizia Municipale, Oscar di Benedetto, che si trovava per caso sul posto. Entrambi residenti a Fano, ma originari del Meridione, si sono spintonati, poi sono caduti a terra, uno sopra l'altro, urla, parapiglia, quindi le sirene e i lampeggianti delle pattuglie. L'episodio ha suscitato tante indignazioni. Lasciamo il Corriere Adriatico. Sono le 7.43, mentre Cambio Quotidiano saluto tutti coloro che dalla pagina Facebook ci hanno inviato il loro buongiorno. Sono tanti come ogni giorno e li ringraziamo vivamente. Entriamo appunto nell'ambito del Carlino Pesaro. Come vedete dalla home page, dalla fotocopertina dedicata all'intervista all'assessore Murgia relativa agli asili nido e quindi andiamo a esplorare quanto ha dichiarato appunto l'assessore Camilla Murgia. Intanto la scheda, perché è importante capire di cosa si tratta. Negli asili nido di Pesaro, per i bambini in fascia 0-3 anni, non c'è posto. 240 sono stati inseriti nelle scuole comunali, 200 non sono riusciti a entrare e quelli privati sono già pieni. Dal 2019 ad oggi il fabbisogno ha aumentato del 40%, sono cambiati i ritmi di lavoro dei genitori e le possibilità del bonus e per le famiglie con Ise e Basso quasi a 0 la retta. Da qui l'aumento di domande. E l'assessore afferma che ci sono troppe richieste. L'unica buona notizia è che oggi si inaugurano 20 posti alla nuova scuola, però sono già assegnati. In città restano tante famiglie escluse. I fondi necessari sono il 20% in più di quelli che spendiamo ora, dice l'assessore. Purtroppo non possiamo affidarci a soluzioni creative. I lavori con il PNRR ci garantiranno posti in più, ma se tutto va bene saranno pronti soltanto nel 2025. Davanti a un fabbisogno di questo tipo scuole statali e paritarie devono fare rete. Poi qui ho fatto un sunto dell'intervista curata da Solidea Vitali Rosati. Chi volesse leggerla in toto è necessario comprare, questo è l'invito, i quotidiani in edicola. Il triangolo dei furti, un'altra piaga sociale dei giorni nostri, tra Gabicce, Gradara e Colombarone. Manco fosse il triangolo delle Bermude, viene ribattizzato il triangolo dei furti. Sono bande che fanno razzie di tutto ciò che trovano. Oro, gioielli, vassoi d'argento, vestiti, scarpe, persino bottiglie di birra. Bottini da svariate migliaia di euro in abitazioni che si trovano nel triangolo. Gabicce, Colombarone, Gradara. 20 furti nelle ultime due settimane e ogni volta la casa appariva come saccheggiata, con i cassetti delle camere aperte, gli armadi e ogni anfratto che potesse contenere qualcosa di prezioso. Rubati in molti casi anche soldi. Si è appreso che quasi tutti i colpi sono avvenuti quasi sempre nel tardo pomeriggio, in abitazioni unifamiliari che non disponevano di un sistema di allarme. Carriera di famò Badioli, il video era per denigrarlo. Depositate le motivazioni della sendenza di condanna del ristoratore di Ioapro, definì l'azione del dirigente di polizia di una arroganza incredibile. E veniamo appunto al report della Fondazione Berloni con la classifica per fatturati. Fatturati, la vedete qui nel box che il nostro regista vi sta ingrandendo, quindi potete notare le prime dieci imprese della nostra provincia e la Profilgas che si guadagna il podio più alto rispetto alle aziende regionali, si colloca al quarto posto dietro ad Ariston, Conad Adriatico e Toz. La Fondazione Merloni di Fabriano tutti gli anni stila questa classifica che comprende 500 aziende marchigiane. Cangiotti torna presidente, si tratta di Marco Cangiotti, il docente universitario, torna alla guida dell'ente, lo era stato tra il 15 e il 19, ora la nuova elezione, il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio, composto da 16 membri, hanno votato all'unanimità Cangiotti, presidente dell'ente per il quadriennio 23-27. Scusate. E oggi alle nove il Circolo Laudato Si e il quartiere Colli e Castelli di Pesaro organizzano una passeggiata per inaugurare il sentiero Laudato Si del fiume Foglia. Si parterà dal Ponte Vecchio di Porta Rimini all'inizio della Bicipolitana, si arriverà fino all'Iperrosini e poi torneremo indietro. Oggi e domani in Piazza del Popolo, fate l'esame gratis per il diabete, ma non rinunciate alla cioccolata. Ci sarà questa bella dottoressa, Michela Meneghello, in Piazza questa mattina e domani pomeriggio per dare consigli con l'Asso Diabetici, un test da parte dell'Associazione Pesarese guidata dal presidente Muratori, gli orari 9.12.16.19. e la dottoressa esprime il concetto che il cacao fa bene se mangiato con misura anche nei vicini stand in piazza. Senza pagare nulla potete misurare la glicemia e avere consigli utili per prevenire la malattia, quindi appuntamento dalle 9 alle 12. Marche Multiservizi, adunata a Tavuglia per il nuovo impianto di C.A.Sprete, ma la testa è a Riceci. Tiviroli, i fatti di quest'ultimo periodo sono stati poco rispettosi e qui vediamo anche nella fotografia il taglio del nastro per il nuovo impianto a osmosi inversa. È sabato, dedichiamo qualche minuto per stemperare la lettura di tutte queste notizie più o meno buone. Facciamoci due risate con il blob di Franco Bertini. Qualcuno ricordi a quelli della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che nessuna norma giuridica vieta tassativamente di vincere le partite giocate in casa. Adesso, Franco, vediamo domani cosa si farà nell'impegno casalingo alla Vitri Frigo. Vediamo se tu possa essere smentito. Arriva un'altra banca in via San Francesco. Che banca è? È che banca. Ma che banca è? È che banca. Ma che banca è? Sì. Buonanotte per l'apertura di questa nuova filiale in via San Francesco. L'evento centrale di Pesaro, capitale della cultura 2024. Matteo Ricci che crea un clone e riesce a farlo eleggere sindaco. La protezione civile di Pesaro è in Toscana ad aiutare chi ha perso tutto sott'acqua. Più capitale della cultura così non si può. È proprio vero. Il comune di Torino invece dice no a una via intitolata Nilde Jotti. Adesso gli mandiamo la foto dei nostri giardini per vedere se riusciamo a convincerli. Grazie Franco di queste risate che ci regali ogni sabato. Veniamo alla cronaca di Fano. Conto alla rovescia per la pala del Perugino. Tornerà in città al massimo entro due settimane. C'è una grande attesa per la mostra dossier. L'assessore Cora Fattori sarà a livello nazionale. Sto notando un grande interesse da parte di tutta la stampa specializzata. Lo ricordiamo che la pala di Durante che vediamo nella fotografia è conosciuta come la pala di Fano. È uno dei lavori più noti del Perugino al secolo Pietro Vannucci. Sarà protagonista di questa rassegna intitolata Pietro Perugino a Fano, primo pictor in orbe. A cura di Anna Maria Ambrosini Massarri con Emanuela Daffra che consentirà di osservare l'opera. Conoscere i resoconti dell'intervento di restauro. Anche confrontandoli con riproduzioni digitali. Continuano i sapori e aromi con i mesi del gusto. Nel calendario eventi di Fano, autunno, primavera. Ottobre e novembre sono indicati come i mesi del gusto. Quindi tanti gli appuntamenti enogastronomici in questi giorni. Da 35 anni per Fano novembre è sinonimo di produzione agroalimentare marchigiana di qualità. Nelle ultime due domeniche del Moese rivolge la sua attenzione alla qualità dei prodotti locali consigliando le regole di base di una sana e corretta alimentazione. Agricoltura Modello a Pergola la bandiera verde è uno dei tre comuni d'Italia ad essere stato insignito del riconoscimento. La cerimonia di consegna si è tenuta a Roma. Come vedete nella fotografia è presente anche la sindaca di Pergola, Simona Guidarelli, che è la seconda da sinistra. Vengono premiate aziende che si sono particolarmente distinte nelle politiche di tutele ambientale. Cronaca di Urbino. Si cerca di aprire gratuitamente il Palazzo Ducale agli universitari. Un'iniziativa dal titolo Porta Bene per sfatare la leggenda che gli studenti dell'Ateneo non devono entrare nella dimora federiciana. Ci aveva provato anche il prosindaco Sgarbi a spingere le matricole a visitare la galleria. Ultimo giro di profumi ad Acqualagna per la fiera del Tartuffo Bianco. C'è il matrimonio anche con la Casciotta, ma soprattutto orgoglio per il ricevimento del telegramma di auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la partecipazione e la visita in persona, on-site, di Giorgia Meloni nelle scorse settimane. Chiudiamo con gli spettacoli. Volano farfalle d'emozione. È stata una prima super al cinema Giometti. La toccante proiezione del film che illustra la storia della giovane istruttrice di nuoto affetta dalla atassia di Friedreich. Leggo questa notizia approfittandone e lanciando lo speciale che Rossini TV ha realizzato tramite Paolo Pagnini. Andrà in onda martedì alle 21.20. Sono le 7.55, ultimi minuti dedicati alla sport. Un sabato e domenica ricco di appuntamenti per le squadre della nostra provincia. Partiamo dalla Vispesaro, quindi partiamo con il calcio. Si gioca domani una partita di qualità contro il Cesena. e parla Banchieri nella consueta intervista del prepartita. Richiede il match più attenzione delle altre perché lo standard dell'avversario è alto. Dobbiamo mantenere la nostra identità. Biglietti in vendita fino a questa sera per coloro che volessero recarsi domani al Manuzzi. Calcio a 5.00 invece l'Ital Service è impegnata oggi alle ore 15.00 a Ciampino contro la squadra locale che nell'ultimo turno ha battuto i campioni d'Italia della Feldi Eboli. Parla coach Scarpetti. Il gruppo c'è e si può crescere. Invece i tifosi dell'Alma Juventus Fano in attesa del derby contro la Vigor Senigallia affermano l'unità d'intenti e soprattutto proteggono la managerialità di Scorsini della natura Scorsini che non si tocca, dice il club Forza Alma che scende in campo con Panaroni, servono rinforzi. Intanto la Vigor rischia di perdere l'ex Broso per il derby. Passiamo alla palla Canestro. Ospite dell'ultima puntata di Insieme a Canestro, insieme alla nostra Elisabetta Ferri, coach Buscaglia, lancia l'avvertimento alla truppa. Impariamo a combattere fino in fondo. Dopo la sconfitta con Napoli per la prima volta mi sono incavolato, mi sono arrabbiato nello spogliatoio per questi motivi. L'appuntamento è domani alle 18.15, Vitrifrigo Arena contro la Bertram Tortona. Il rugby invece domani alle 14.30, appuntamento in casa per gli appassionati della palla ovale, la Fiorini Rugby Pesaro, dopo 5 giornate purtroppo ancora senza vittorie, incontra la Val Sugana. E chiudiamo con la palla a volo, il volley femminile, la Menaga Box che va a Firenze domani alle 19.30 ad incontrare Scandici, che è un grande club, parla Coscialeva, dimostriamo il nostro carattere. Era questa l'ultima notizia di oggi. Vediamo insieme la programmazione, il palinsesto di Rossini TV per questo weekend. Come sempre iniziamo con la lettura e il commento al Vangelo della Domenica, cura del Don Marco di Giorgio alle 10.30, replicato alle 16.00 e poi domani alle 8.00 e alle 11.00. Insieme a Canestro la replica della seguitissima puntata di giovedì scorso, la potete vedere alle 11.00, poi alle 20.45 e domani alle 9.30 e alle 14.00. Gli ospiti sono stati Maurizio Boscaglia e l'opinionista di Sportando e inviato della Gazzetta dello Sport, Matteo Fattori. Rossini Newsweek, per condensare insieme tutte le principali notizie del nostro telegiornale, questa sera alle 19.30, replicato alle 23.30 e poi domani con gli orari in sovraimpressione. Siamo in conclusione, sono le 7.59, quindi puntualissimi vi lasciamo alle notizie del meteo di Pesaro, Urbino e Fano. L'appuntamento con l'informazione e con il vostro conduttore sarà per lunedì mattina sempre alle 7.20 sul canale 80 e sulla pagina Facebook. E come sempre, mi raccomando, non cambiate canale.